Il diavolo Cassa integrazione La prossima settimana una cabina di regia in prefettura Biffoni, i ritardi sull'erogazione sono inaccettabili Coronavirus Prato torna al doppio zero Nessun decesso nel nuovo contagio Approvato dalla giunta il piano di azione a sostegno di edilizia urbanistica Le opportunità per le imprese e i cittadini Appoggio a Caiano Tornano gli angeli del rispetto, vigileranno anche sul divieto di assembramento Una buona serata dalla nostra redazione Bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato La cronaca in primo piano si sarebbe messo a capo di una setta fingendo di essere il diavolo A finire agli arresti domiciliari uno studente di 23 anni residente nella provincia di Prato Che per l'accusa avrebbe costretto gli adepti e anche i minorenni a subire dei reati sessuali Sentiamo Aveva creato una setta satanica di cui si era posto a capo per avvicinare ragazzi e ragazze Da plagiare psicologicamente per compiere violenze sessuali Il diavolo, questo è il nome con cui si faceva chiamare dagli adepti È un 23enne residente a Montemurlo Che è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di riduzione in schiavitù, violenza sessuale e pornografia minorile Sono 13 gli episodi di violenza sessuale contestati al 23enne Che era già stato perquisito lo scorso febbraio Le vittime hanno un'età compresa tra i 16 e i 23 anni Ma c'è anche un giovane che all'epoca dei fatti aveva meno di 14 anni L'inchiesta della squadra mobile di Firenze è iniziata nell'aprile 2019 Dopo la segnalazione da parte della madre di due ragazzi E dell'Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici a cui la donna si era rivolta L'indagato è ritenuto responsabile di aver tenuto in uno stato di profonda soggezione i giovani Abusando della loro condizione di inferiorità psichica Approfittando di problemi di isolamento, solitudine e talora di depressione Molte vittime venivano attratte dalla promessa di sbloccare le loro potenzialità Salvo poi finire in un vortice di abusi e violenze fisiche, oltre che psicologiche Minacce di morte rivolte anche ai familiari Fino ad essere costretti a compiere e subire, in diverse occasioni, rapporti sessuali Le indagini sono state portate avanti ascoltando le vittime Attraverso perquisizioni e accertamenti sul traffico telefonico e sui profili social dell'indagato I seguaci erano indotti a credere alla presenza di creature invisibili come vampiri e lupi mannari Venivano convinti di essere dei prescelti, incaricati di salvare il mondo Entità non umane che al fine di acquisire più poteri Sarebbero state costrette a subire rituali di ogni genere Morsi sulle braccia fino a provocare emorragie Tempie premute con la forza, dita negli occhi, inalazione di incensi e cristalli In alcuni casi le violenze avrebbero provocato nelle vittime la temporanea perdita dei sensi I presunti riti satanici sarebbero avvenuti in parchi o luoghi abbandonati Tra cui l'area del Montalbano in località Pietramarina Dove è presente un masso noto come Sasso del Diavolo L'ex cementizia di Prato L'ex ospedale psichiatrico Banti di Vaglia a Firenze O l'ex complesso manicomiale Villa Sbertoli di Pistoia Per dimostrare di essere immortale Il 23enne montemurlese si sarebbe addirittura fatto stringere il collo con le mani Da un fidato appartenente al gruppo Per poi cadere a terra fingendosi morto E infine rialzarsi rimettendosi a posto l'osso del collo e la trachea Le vittime sarebbero inoltre state costrette ad inviargli foto di nudo via WhatsApp Le immagini, diceva il 23enne, non venivano visualizzate da lui Ma da Idra, una fantomatica entità cibernetica E sulla vicenda abbiamo intervistato lo psicologo Massimo Cotroneo Del servizio centrale operativo della direzione anticrimine della Polizia di Stato Che ha fornito un supporto alle indagini della squadra mobile di Firenze Come siete intervenuti da una parte per facilitare la denuncia da parte delle vittime L'emersione di vicende così traumatiche Dall'altra anche per sostenere questi ragazzi abusati da un punto di vista psicologico L'attività è partita proprio dalla segnalazione della madre di due ragazzi In effetti E chiaramente poi a seguire tutti coloro che sono stati ascoltati Che hanno reso testimonianza E rispetto i quali l'autorità giudiziaria Lì dove necessario ha disposto le opportune misure Insomma di salvaguardia Ecco quindi predisponendo lo psicologo in ausilio Tutte le volte che la situazione lo rendesse necessario Tutte le volte che fosse opportuno In ragione, in relazione al soggetto, alla vittima, alla persona in questione In questo senso la Polizia di Stato E lo SCOA all'interno della Polizia di Stato Con il fornire un supporto tecnico scientifico alle indagini attraverso lo psicologo Ha consentito, diciamo, di utilizzare quegli strumenti tecnico scientifici Utili in queste circostanze Per la profilazione dei soggetti Dell'autore presunto Delle vittime E quindi, diciamo, costruire opportunamente profili, diciamo, di pertinenza E voltiamo pagina Parliamo adesso di cassa integrazione La prossima settimana la cabina di regia in prefettura Il sindaco Biffoni Tuona In questa situazione non è possibile che i lavoratori debbano aspettare ancora È prevista per la prossima settimana La cabina di regia tra i vari enti interessati A partire dall'Inps Per fare il punto sulla cassa integrazione Obiettivo del tavolo Ricercare soluzioni stringenti Ai ritardi nell'erogazione dell'indennità Destinata ai lavoratori messi a dura prova Dall'emergenza economica da Covid Il sindaco Matteo Biffoni Fa sapere di essersi interfacciato con la prefettura Per chiamare a raccolta i vari soggetti E chiedere un intervento fattivo al governo centrale Dal nuovo prefetto Lucia Volpe È arrivata alla massima disponibilità I ritardi sull'erogazione della cassa integrazione Sono inaccettabili Tuona il primo cittadino di Prato Che ribadisce le difficoltà dei cittadini Da troppi mesi senza stipendio E richiama l'esecutivo Al senso di responsabilità Sul tema si era espresso per primo Il deputato del PD Antonello Giacomelli Che anche a margine della cerimonia Per la festa della Repubblica Aveva definito i ritardi Al limite del vergognoso L'onorevole Demma ha scritto poi Una lettera a Biffoni Per far chiarezza sulla vicenda So bene che l'amministrazione comunale Non ha poteri in merito Ma conosco bene la tua sensibilità Spiega nella missiva Giacomelli Adesso quindi la convocazione Nella speranza di sbloccare le procedure Intanto il deputato pratese di Cambiamo Giorgio Silli Commenta quanto accaduto Sono a disposizione per lavorare insieme Nella stessa direzione Afferma Silli Tuttavia auspicherei un intervento più incisivo Di Giacomelli Nei confronti del governo Più che l'ennesima lettera al sindaco Dato che nei banchi della maggioranza Che guida il paese Conclude Silli C'è proprio il PD E facciamo adesso il consueto punto Sui contagi Nessun nuovo caso E nessun decesso Ancora buone notizie Sul fronte coronavirus per Prato Ma anche a livello regionale La situazione è confortante Sono solo 4 in più Rispetto a ieri Nuovi casi I guariti raggiungono Quota 8.093 L'80% dei casi totali In Toscana si registrano Due nuovi decessi Un uomo e una donna Con un'età media di 87 anni Complessivamente 872 persone Sono in isolamento a casa Poiché presentano sintomi lievi Che non richiedono cure ospedaliere O risultano prive di sintomi Sono 5.394 le persone Anche esse isolate In sorveglianza attiva Perché hanno avuto contatti Con persone contagiate E si riducono ancora Le persone ricoverate nei posti letto Dedicate ai pazienti covid Che oggi sono complessivamente 101 9 in meno di ieri Di cui 25 in terapia intensiva È stato approvato dalla Giunta Il piano di azione A supporto dell'edilizia E dell'urbanistica Incentivo del riuso Sostenibilità ambientale Attenzione all'eco bonus Sono queste le linee guida La Giunta comunale ha approvato Il piano di azione Per i primi interventi A supporto dell'edilizia E dell'urbanistica Tra le altre cose Il piano si propone Di mettere in campo Strategie e interventi Per favorire il riuso E la sostenibilità ambientale L'emergenza covid Ha sottolineato L'importanza degli spazi aperti Nei luoghi privati Per questo Tra le ipotesi di intervento C'è la possibilità Di escludere Dalla superficie edificata Il calcolo Di spazi come i terrazzi Proprio per favorirne La progettazione È già operativa La gratuità Per 30 giorni Della concessione Di suolo pubblico Per i ponteggi Dei cantieri E il comune Sta pensando Alla riduzione Di onere di urbanizzazione Oltre il 20% Per piccoli interventi Di riuso È un documento Complessivo Che cerca di dare Un quadro complessivo A una molteplicità Di azioni Che dovranno essere svolte Che sono già state svolte Sono in corso E dovranno essere svolte Da qui all'estate Che sostanzialmente Hanno lo scopo Di rappresentare Da una parte Un primo sostegno Immediato Al settore dell'edilizia E dall'altra parte Definire delle strategie Anche nel medio e lungo periodo Che si muove Su tre grandi temi Da una parte Il supporto All'edilizia Quindi l'edilizia privata E l'urbanistica Tutto quello che riguarda Invece le opere pubbliche Che sono in corso In questo momento Che verranno sviluppate Nel comune di Prato E poi Il grande tema Dell'ecobonus Sisma bonus Quanto alle opere pubbliche Sono in corso di realizzazione Fase di appalto E progettazione esecutiva Lavori per circa 100 milioni Per i quali Alcuni cantieri Non sono ripartiti È intenzione del comune Promuovere un tavolo Di coordinamento Con la rete delle imprese E delle professioni Sull'interpretazione Del protocollo di sicurezza E per il monitoraggio Dell'affidamento Di incarichi Per le progettazioni Sul tema Ecobonus Prato è stata inserita In una sperimentazione Con IFE Le ANCI Per il coinvolgimento Di ESCO nazionali Nell'efficientamento Energetico di quartiere Individuando le case popolari Di San Giusto Come eventuale zona di intervento È inserita in questo momento Nell'ambito Di una sperimentazione Di ANCI Insieme alle città Di Ferrara e Bologna Proprio per definire Delle modalità Attraverso le quali I grossi gruppi Energetici nazionali Possono intervenire Alla scala del quartiere Nelle città C'è questa sperimentazione Ma io credo Che sia ancora più importante Il tavolo Che va rilanciato Di condomini sostenibili Rispetto ai quali Appunto la città Può mettere in gioco Un'offerta Di interventi Molto importante E quindi Rappresentare Un supporto Fondamentale Per il settore Si esporta dal balcone Manifestando intenti suicidi E soltanto L'intervento Della polizia È servito A farla desistere La donna È salita sul balcone Tenendo in braccio I due gemelli Di un anno Manifestando la volontà Di volersi gettare Nel vuoto Con loro L'intervento Di un parente È riuscito A mettere in salvo Almeno i piccoli Ma la donna Non ha desistito Solo l'arrivo Della polizia E l'intervento Degli agenti Ha permesso Di riportarla Al sicuro Successivamente Si è appreso Che la giovane Una 25enne Cittadina cinese Sin dalla gravidanza Dei due gemelli Aveva manifestato Disagio psichico E parliamo adesso Di asili nido Nessuna certezza Sulla ripartenza A settembre Costi sempre più elevati Altra incognita Riguarda poi I centri estivi Ancora non si sa Come e dove Potranno essere fatti A chiedere risposte chiare Sono alcuni operatori Del settore Associati a Confartigianato Sentiamo In queste settimane La città è ripartita I vari settori Hanno ripresa a lavorare Ma ce n'è uno Sul quale non è stata fatta chiarezza Quello degli asili nidi Che portano sulle spalle Il peso di tre mesi Di chiusura forzata E nessuna certezza Per la riapertura A settembre Intanto i costi aumentano E le risorse non arrivano A chiedere risposte certe Sono alcuni rappresentanti Del tavolo tecnico Dei nidi convenzionati Supportati da Confartigianato Imprese Prato La cosa che ci spaventa Di più È il fatto che non sappiamo A settembre Se riapriremo E se riapriremo Come riapriremo Essendo veramente Tanti nidi Su Prato 34 nidi convenzionati Ovviamente offriamo Un servizio di concezione Di tempi di vita E non solo Alle famiglie E un numero di famiglie È molto importante E non dare risposte O dare sempre incertezza Alle famiglie Che ci chiedono Come si fa Quando ripartite In che tempi Possiamo iscrivere I nostri bambini Questo ci crea Non poca difficoltà I gestori L'asili nido Sono presenti Sono sul territorio Cercano di fare Tutto quello che è possibile Ma purtroppo Manca C'è un vuoto Legislativo importante E non ci permette Di dare risposte Certe Alle famiglie Nessuna indicazione Inoltre ad ora È stata data Sulle distanze Da rispettare Sul rapporto Educatore bambino Che dovrebbe essere Una cinque Ma non c'è ancora Nessuna conferma Se così fosse Dovrebbero almeno Raddoppiare gli operatori Con l'incognita però Delle distanze da rispettare E quindi di quanti bambini Potranno essere accolti Se si pensa Che a Prato Sono presenti 34 nidi convenzionati E 7 privati Per un totale Di circa 1300 bambini Il rischio è quello Di non poter soddisfare Le esigenze Di tutte le famiglie A questo si aggiungono Gli ingenti costi Con una perdita In questi mesi Di chiusura Che va da 100 A 150 mila euro In base alla grandezza Del nido Altra incognita Infine riguarda I centri estivi Dal 15 giugno Ripartiranno le attività La regione toscana Ci sono risposte certe Da parte del comune Che non ha specificato Dove e come Potranno essere fatti Sono uscite le linee guida Da parte della regione Ma queste qui Chiaramente prevedono Un rapporto educatore-bambino Addirittura Molto molto inferiore Rispetto agli anni Agli anni passati Per la fascia di età 3-5 anni Ad esempio È un rapporto bambino Un educatore Ogni 5 bambini E quindi È una spesa economica Da parte delle strutture Chiaramente Molto pesante Le linee guida Ci sono Però ad oggi Il comune di Prato Non si è mosso Non si sa se ci saranno Dei contributi Provenienti dalla regione Provenienti dallo Stato Chiaramente Con queste linee guida E con questi rapporti numerici Le rette Che Le strutture dovranno fare Alle famiglie Avranno un innalzamento Tutto questo Ricadrà Naturalmente Sulle famiglie stesse Contributi non ce ne sono Le strutture Su cui fare I nostri centri estivi Neppure E naturalmente È una grossa incognita Se dovremmo partire Il 15 di giugno Chiaramente è una data Alle porte Le incognite Si sommano E adesso di nuovo Una notizia di cronaca L'emergenza coronavirus Non ferma Lo spaccio di droga Altri due pusher Sono stati arrestati Dai carabinieri Il primo arresto È stato eseguito Dai militari Della stazione di Iolo Intervenuti vicino All'argine Dell'Ombrone In seguita Ad un insolito Viavai di persone Sorprendendo Un individuo Mentre stava cedendo Delle dosi di droga Ai suoi clienti Lo amo Un cittadino marocchino È stato trovato In possesso Di 20 dosi Di cocaina E oltre 300 euro Ritenute provento Dell'attività Di spaccio Gli acquirenti Assuntori Sono stati segnalati Alla prefettura I militari Della tenenza Di Montemurlo Sono intervenuti invece Nelle vicinanze di piazza Dell'università Dove hanno bloccato Un altro pusher Un cittadino Marocchino Mentre si infilava Negli slip Alcune dosi Di hashish A casa dell'uomo Sono stati trovati Altri 150 grammi Circa di hashish Alcune dosi Di cocaina I due sono stati Arrestati Con il reato Di detenzione Spaccio Di sostanze Stupefacenti Riportare la natura Al centro Questa sera Il laboratorio di idee D'immagina a Prato Intervista a Giuseppe Pancrazzi Della tenuta agricola Marchesi Pancrazzi Sentite Io mi immagino La Prato dell'era post-covid Più unita Più unita Nel senso che Questa emergenza Ha risaltato molto I punti di debolezza Delle imprese Ma anche delle persone E quindi Io mi immagino Che Che ne usciremo Rafforzati Solamente se riusciremo A prendere il meglio Di tutti E quindi Per le imprese Far sinergia Che riuscire a fare A fare gruppo insieme Permetterà Di prendere il meglio Di tutti E dare spazio Alla creatività Del singolo Ma a sfruttare Sfruttare l'insieme Penso che questa emergenza Abbia risaltato molto La necessità Di riapproparsi Del tempo E della vicinanza Con la natura Credo che questo Sarà anche un modo Nuovo Per vivere Quindi Vivere gli spazi Aperti Che abbiamo intorno Al meglio E quindi Se pensiamo a Prato Che ha un bellissimo centro Ma anche delle bellissime zone Di campagna Di collina Riuscire a viverle meglio Per riuscire anche A stare insieme E quindi Anche spazi come questo Che magari in passato Non si sfruttavano Al meglio Questo può essere Può legarsi anche Al concetto Passati da uno smart working Passare a una smart city E quindi Una smart city Dove la tecnologia Ti aiuta a capire Quali sono gli spazi Che puoi fluire In sicurezza Insieme agli altri E A ritmo della natura E che è forse un ritmo Migliore E più consono Per ciascuno di noi E ci spostiamo adesso A Firenze Cod oggi Per la riapertura Degli uffizi È stato il direttore Del museo fiorentino Aike Schmidt Ad aprire il portone I primi visitatori Della fase 2 Dopo 85 giorni Di chiusura Imposta dal lockdown Per l'emergenza Covid-19 A Firenze Riaprono le gallerie Degli uffizi Distanziate Con mascherina Sono state più di 300 Le persone Che si sono prenotate Per il primo giorno Di apertura Di uno dei musei Più famosi del mondo Adesso Con le norme Di sicurezza Per evitare il contagio Il numero massimo Di visitatori È stato ridotto Della metà Passando da 900 A 450 A riaprire le porte Degli uffizi Il direttore Aike Schmidt Questo è un passo Molto importante Per la città di Firenze E questo è un passo Molto importante Per l'Italia E anche lo stesso giorno In cui riaprono Le regioni Tra di loro E fra un po' Anche il traffico Internazionale Però quello che Ora importa Soprattutto È che Ci saranno Molto meno persone Del solito All'interno Degli uffizi Per questo motivo Sarà possibile Di sperimentare Un'esperienza Museale Molto più pacata Molto più tranquilla Molto più approfondita Tra le novità Annunciate Dal direttore Degli uffizi Per evitare Assembramenti Di fronte Alle opere principali Come la Venere E la Primavera Del Botticelli Sono stati posti Gli indicatori Di distanza Per segnalare Quante persone Possono sostare Contemporaneamente Per osservare l'opera Ma non ci saranno Limiti di tempo Questa fruizione Che viviamo adesso Sia il modello Per il futuro Quindi Non il turismo Selfie e fuggi Ma un turismo Approfondito Di vero studio Vera Ammirazione Vera Connessione Anche emotiva Con le opere D'arte Un'apertura Che non sancisce Solo il via Dopo il lockdown Ma anche Un nuovo modello Di visita E turismo E restiamo a Firenze Dove stamani Si è tenuta Una manifestazione Del nursing Per ricordare Gli operatori sanitari Morti e ammalati Durante l'emergenza Covid-19 Il sindacato autonomo Degli infermieri Rivendica Il riconoscimento Dei diritti Lavorativi E l'aumento Degli stipendi Del personale Infermieri Avete ricevuto Gispositivi Di protezione Individuale Ionei? No! Infermieri Contagiati Vi è stata Solizzata La quarantena? No! Infermieri Contagiati Vi sono sottifatti I tamponi? No! Infermieri Sospetti Contagiati Siete stati Isonerati Dal lavoro? No! Infermieri Vi basta L'incomio L'etichetta Di eroi? No! 40 paia Di scarpe Per non dimenticare Gli infermieri Che hanno perso La vita A causa Del coronavirus 300 infermieri In piedi Per denunciare Le mancate promesse Di governo E regione Toscana Nei confronti Della categoria E il flash mob Organizzato Dal sindacato Autonomo Degli infermieri Nursind Stamani In piazza Duomo A Firenze Di fronte Alla sede Della giunta regionale L'iniziativa Segue la manifestazione Organizzata Dal Nursind A Torino E ad Ancona E sarà replicata Con altri flash mob Nelle prossime settimane In altre città italiane Al centro della manifestazione Il ricordo Dei 40 infermieri Scomparsi in Italia Negli ultimi mesi Dei colleghi Circa mille In Toscana Che si sono ammalati Oltre alla rivendicazione Dei riconoscimenti salariali Non dimentichiamo Non dimentichiamo però Anche le tante promesse Che da più parti A livello istituzionale Sono state avanzate Ricordiamo tutti Che a marzo Ci avrebbero aumentato Gli stipendi Paragonandoli E uniformandoli Ai colleghi europei Niente di tutto questo Si è trasformato Ad aprile In un bonus Di 100 euro Nemmeno per tutti A maggio è sparito tutto E questi sono gli eroi Che sono stati Già dimenticati La regione toscana In particolar modo Abbiamo più volte Chiesto Di sentirci Durante l'emergenza Non ha mai voluto Parlare con gli infermieri E abbiamo Anche criticato Quei soldi Che non sono stati dati Ai colleghi Che si sono ammalati E questo per noi È una cosa Morale e civile Che non possiamo tollerare E andiamo adesso Nei comuni Medice Iniziamo da Poggio A Caiano Dove tornano Gli angeli del rispetto Vigileranno anche Sul divieto Di assembramento Ce ne parla Giulia Ghizzani Da pochi giorni Sono in azione A Poggio A Caiano Gli angeli del rispetto Il servizio Frutto dell'accordo Rinnovato Tra comune E associazione nazionale Carabinieri Coprirà l'intera estate E punterà Come l'anno scorso Sulla promozione Dei corretti comportamenti E sulla diffusione Delle norme Che facilitino Una convivenza civile Tra i cittadini Il nucleo mediceo Dell'associazione Presiderà per tre stere A settimana Le vie della città Soprattutto le zone A rischio Assembramenti E schiamazzi notturni L'esperienza dell'anno scorso È stata molto apprezzata Dai foggesi L'avevamo detto Che saremmo tornati Anche quest'anno Quest'anno Con giugno Arriva di nuovo Il progetto Angeli del rispetto Che quest'anno Avrà anche una funzione Specifica Che sarà quella Di ricordarci Quando frequentiamo Gli spazi pubblici Andiamo in un giardino O altro Di evitare gli assembramenti Di indossare correttamente Le mascherine Quando non si possono Mantenere le distanze Interpersonali Di sicurezza Ma soprattutto Ci ricorderanno Come sempre E come dicevamo Anche l'anno scorso Che chi vuole bene Alla propria città La rispetta E quindi rispetta Gli spazi pubblici Rispetta quelli che sono Di tutti E fa sì che Quando si va via Da un giardino Appunto Lo si lascia Esattamente come Lo vorremmo trovare noi Quando ci arriviamo Da giugno A settembre Anche quest'anno Sono tornati con noi Grazie a 25 volontari Dell'Associazione Nazionale Carabinieri Che saranno I nostri Angeli Del rispetto Il progetto Sarà supportato Dalla diffusione Di un opuscolo In cui sono raccolti I punti chiave Per una convivenza rispettosa Come aver cura Dell'ambiente E degli spazi condivisi Evitare schiamazzi E rumori molesti Dopo le 23 Raccogliere le deiezioni Degli animali Rispettare l'arredo pubblico E non gettare a terra I rifiuti Nell'opuscolo Saranno presenti Anche le raccomandazioni Utili A prevenire il contagio Da covid-19 Rispettare il distanziamento sociale Evitare assembramenti E indossare la mascherina Qualora non si possano garantire Le distanze Il compito Degli angeli del rispetto Sarà quello Semplicemente Di monitorare La situazione E segnalare Prontamente Alle forze di polizia Polizia municipale Compresa Eventuali Ipotesi Di assembramento Quello delle forze di polizia Sarà quello Di agire Più prontamente Anche arrivando Alla contestazione Di sanzioni Per il non rispetto A delle prescrizioni Previste Passiamo Di tutto il comune E cerchiamo La collaborazione Delle persone Per evitare Tutte Delle situazioni Non tanto Consone Alla E adesso A Carmignano Dove il comune Pensa a rilanciare L'economia Del territorio Azzeramento Della Tosap Per tutto Il 2020 E concessione Di nuovi spazi Per i pubblici Esercizi Ce ne parla Marco Manzo Esenzione Della Tosap Per tutto Il 2020 A bar e ristoranti Un bando Per permettere Ai locali Di poter sfruttare Ulteriore suolo pubblico E 60.000 euro Di stanziamento A fondo perduto A sostegno Delle attività commerciali Sono queste Le principali misure Messe in campo Dall'amministrazione Di Carmignano Per la ripartenza Dopo le chiusure forzate Devote all'emergenza Coronavirus Ci sono alcune misure Che abbiamo adottato E stiamo ancora adottando La prima Che abbiamo Prospettato È innanzitutto L'esenzione Della Tosa Per i pubblici Esercizi Per il suolo Che già occupano In più abbiamo dato Abbiamo fatto un bando Un avviso di interesse Per i pubblici Esercizi Per richiederci Ulteriori spazi E abbiamo messo A disposizione Spazi anche importanti Come la piazza Del comune Oppure il parco museo O la rocca O anche la cava di Bacchereto E anche questi Saranno esentati Dalla Tosa Per tutta l'estate Inoltre Stiamo elaborando Un bando Che si chiama Contributo alla ripartenza È un contributo Abbiamo stanziato 60.000 euro Per dare un contributo Minimo Di 500 euro Ad ogni attività Commerciale Artigianale Che ha un fondo Dove esercita Qui nel comune Carmignano È un fondo A fondo perduto In modo da dare Un contributo A quelli che sono Gli operatori Nel nostro territorio Quindi I vari negozi I vari commercianti I vari artigiani Per ripartire È stato pubblicato Online Sulla piattaforma Telematica Di gestione Delle gare Del comune di Prato L'avviso di manifestazione Di interesse Per l'affidamento Della gestione Della pista di atletica Comunale Mauro Ferrari In seguito Verrà pubblicata La gara Per l'affidamento Del servizio Con il criterio Dell'offerta Economicamente Più vantaggiosa La partecipazione Alla manifestazione Di interesse Non vincola I soggetti Interessati A partecipare Alla successiva Fase di selezione Tramite Procedura Negoziata L'affidamento Della gestione Durerà 5 anni E sarà rinnovabile Per altri 5 Per poter partecipare È necessario Prendere visione Dell'avviso In cui sono riportate Le modalità E requisiti Di partecipazione Le domande Dovranno pervenire Entro le 17 Di lunedì 22 giugno E facciamo adesso Una breve pausa Ma rimanete con noi Torniamo tra poco Con il meteo Ben trovati E dal momento Delle previsioni Del tempo Come sempre A cura Del Consorzio Lamma Salve Una buona serata Un caro saluto A tutti gli amici Che ci seguono da casa L'esame sinottico Per la giornata Di domani Ci mostra Un'area depressionaria Che insiste Sul Mediterraneo centrale Con un fronte A prevalente carattere freddo Che è atteso Transitare Sul nostro territorio Nel corso Della giornata Di domani Portando naturalmente Un deciso Peggioramento Delle condizioni Meteo Andiamo a vedere Nello specifico Le previsioni Attese proprio Per la giornata Di domani Al mattino Un cielo prevalentemente Molto nuvoloso Coperto Con piogge diffuse E qualche rovescio Precipitazioni Che localmente Potranno risultare Anche abbastanza intense I venti Si dispongono Da sud-ovest Con mari Che via via Si faranno mossi O molto mossi Per quanto riguarda Il pomeriggio E soprattutto La serata Un ulteriore peggioramento Con il transito Del fronte freddo Quindi la possibilità Anche di temporali Localmente Anche di forte intensità Soprattutto nelle ore serali E notturne Le temperature massime Sono attuose Intorno ai 20-22 gradi Per quanto riguarda La giornata di venerdì Un lento miglioramento Ma con ancora Residue piogge Al mattino Abbastanza diffuse Sulle zone interne Nel pomeriggio Graduale attenazione Delle precipitazioni E schiarite Via via più ampio Sulle zone costiere Favorite anche Dall'intensificazione D'eventi occidentali Che tenderanno Appunto a portare via Gran parte Degli addensamenti Degli addensamenti Nuvolosi Ma che favoriranno Anche un'ulteriore Intensificazione Del moto ondoso Sono attesi infatti I mari Tra molto mossi E localmente agitati Su tutti i nostri bacini Le temperature Sono attese Stazionarie Nella giornata di venerdì Con minimi intorno ai 12-15 gradi E le massime Intorno ai 20-22 Con questo è tutto Vi auguro una buona serata Ci risentiamo domani Con altri aggiornamenti E non ci sono ulteriori aggiornamenti Il telegiornale termina qui Il prossimo appuntamento Con informazioni di TV Prate Per domani alle 13.45 Con il Tg del giorno Ma rimanete con noi Vi lasciamo intorno alle 9 Vi ricordiamo inoltre Domani alle 17.30 In diretta dal Duomo Trasmetteremo la recita del Rosario A seguire la celebrazione della Messa Grazie per averci seguito E arrivederci C'è un prima E un dopo E l'emergenza coronavirus Segna uno spartiacque E la nostra città come sarà? Dipenderà anche da noi Nasce per questo l'iniziativa Immagina Prato Un laboratorio di idee sul futuro Per ripartire insieme Più forti di prima Chiunque può contribuire all'iniziativa Inviandoci la sua idea Con un videomessaggio Della durata massima di due minuti Via WhatsApp al numero 331 1888 676 Le idee raccolte Potranno essere viste e commentate Sul sito tvprato.it E sui social della TV Il dibattito è già iniziato Adesso tocca a te Hashtag Immagina Prato Per ripartire insieme Per ripartire insieme Grazie.